ciao a tutti e benvenuti in questo video dunque visto che ogni tanto mi vengono fatte delle domande anche riguardo i materiali che utilizzo per realizzare i miei modelli ho deciso di pubblicare ogni tanto qualche video per descrivervi più nello specifico le caratteristiche principali di quei materiali che più comunemente vengono utilizzati nel modellismo quindi in questo video vi parlerò di quello che è sicuramente il materiale più utilizzato da tutti i modellisti del mondo ossia il polistilene la prima cosa da dire però è che il polistilene non nasce come materiale specifico da modellismo ma si tratta in sostanza di quei pannelli che vengono utilizzati in edilizia per l'acquimentazione dei muri quindi per acquistarlo dobbiamo recarci nei centri fai da te tipo le rua merlembrico eccetera e cercarlo in quelle parti che trattano appunto materiali isolanti per edilizia bene dopo questa piccola premessa andiamo a vedere più nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche e i metodi principali di lavorazione del polistilene dunque iniziamo subito facendo però una distinzione tra polistilene espanso eps e polistilene estruso xps il polistilene espanso eps è quello che viene chiamato più comunemente polistirolo e viene utilizzato soprattutto per gli imballaggi presenta una consistenza molto friabile con il classico aspetto a pallini questo lo rende un tipo di polistilene poco idoneo ai lavori di modellismo in quanto la sua bassa densità può presentare dei problemi nella lavorazione e soprattutto i pallini potrebbero dare dei problemi nella fase di pittura del nostro modello volendo può essere comunque utilizzato per delle parti strutturali che verranno poi nascoste a lavoro ultimato il polistilene estruso quello con la sigla xps invece non presenta pallini ha una densità molto maggiore ed una consistenza molto compatta questo lo rende un materiale ideale per i nostri lavori di modellismo perché si può tagliare levigare incidere ed anche leggermente modellare quindi quando nel modellismo sentite parlare di polistirene ci si riferisce sempre al polistirene estruso sia quello con la sigla xps i pannelli di polistirene solitamente hanno una dimensione di 120 x 60 centimetri con degli spessori che vanno da un minimo di 2 centimetri fino ad arrivare anche a 8 10 centimetri di spessore si può trovare in diverse colorazioni che vanno dal bianco al giallo ma anche blu o verde a seconda delle marche e dalla differenza di densità io riesco a trovare più facilmente quello di colore bianco ma comunque in linea di massima possiamo dire che il colore non ha molta importanza tutti questi tipi di polistirene vanno bene per i nostri lavori di modellismo l'importante è che sia polistirene con la sigla xps iniziamo ora con l'operazione di taglio del pannello per effettuare i primi tagli dal pannello completo possiamo aiutarci con un metro per tracciare una linea parallela al bordo in questo modo otteniamo un pannello più piccolo in modo da agevolare i tagli successivi per tracciare le linee può essere utile anche una squadra di dimensioni medio grandi in modo da riuscire agevolmente a tracciare delle linee di taglio dal pannello completo mentre con una squadra più piccola possiamo tracciare le linee secondarie dai pezzi più piccoli una volta tracciate le linee alla misura desiderata per tagliare delle linee dritte sul polistirene basterà utilizzare un semplice taglierino come questo vi consiglio di utilizzare sempre lame ben affilate perché contrariamente a quello che si potrebbe pensare il polistirene nonostante sia un materiale abbastanza morbido rovina molto in fretta le lame del taglierino per effettuare il taglio io di solito mi aiuto con una tavoletta di legno di un certo spessore in modo che fornisca un appoggio alla lama per ottenere in questo modo dei tagli più perpendicolari possibile una delle cose più importanti in questa fase è quella di non cercare di effettuare il taglio in unica passata ma ripetere più volte l'operazione affondando sempre di più la lama ad ogni passata in modo da ottenere un taglio molto più pulito perpendicolare e soprattutto senza strappi una volta che abbiamo effettuato i primi tagli dal pannello grande col taglierino per effettuare i tagli di rifinitura possiamo utilizzare una lama a calda con banchetto in questo caso io sto usando il termocatter della proxon che per questo tipo di lavori col polistirene è davvero molto comodo magari in un prossimo video vi farò una recensione più dettagliata dal termocatter entrando più nello specifico per illustrare le varie possibilità di lavorazione che si possono effettuare con questa macchina per ora vi dico solo che se volete sfruttare al meglio le possibilità di modellazione del polistirene non potrete fare a meno di munirvi di una lama a caldo con banchetto come questa passiamo ora a descrivere quella che forse è una delle caratteristiche più importanti del polistirene che sicuramente l'ho reso uno dei materiali più utilizzati nel modellismo ossia il fatto che si possa anche leggermente modellare ovviamente il suo grado di modellabilità non è assolutamente paragonabile alle classiche paste modellabili ma se per esempio dobbiamo simulare un muro in pietra con la tecnica dell'incisione si possono ottenere degli ottimi risultati anche molto realistici con l'utilizzo di un coltellino a punta e una semplice penna a sfera possiamo andare a modellare in maniera molto semplice un muro in pietra o mattoni basterà tracciare il disegno del nostro muro sul polistirene e poi dopo aver inciso leggermente con il coltellino le linee di fuga tra una pietra e l'altra passare con la penna a sfera suonate 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo aver creato le fughe con la penna a sfera, possiamo ulteriormente modellare il muro, andando a creare una texture effetto pietra, passando un sassolino su tutto il pezzo di polistirene. Ecco infine il risultato finale che possiamo ottenere con la tecnica dell'incisione. In sostanza, abbiamo letteralmente scolpito un muro in pietra su un pezzo di polistirene. Andiamo ora a vedere quelli che possono essere i metodi di incollaggio del polistirene. Dunque, per incollare il polistirene si possono utilizzare vari tipi di colle, dalla mille che odi alla colla vinilica a presa rapida. Oppure potete utilizzare anche il classico Binavil, quello che si può trovare anche in cartoleria. Ad ogni modo, io mi trovo molto bene con questa colla vinilica a presa rapida, che nonostante sia una colla specifica per legno, incolla molto bene anche il polistirene. Inoltre, questa colla inizia a fare presa nei primi 5 minuti dopo l'assemblaggio e quindi permette di manipolare i pezzi abbastanza velocemente, senza dover attendere troppo tempo. Per tenere i pezzi in posa durante l'incollaggio, possiamo utilizzare dei semplici spilli da sartoria oppure anche dei comuni stuzzicadenti. Il primo consiglio che vi do è quello di non inserire gli spilli in maniera troppo dritta, come vi sto mostrando in questo momento, perché questo rende l'unione poco stabile e lo spillo si potrebbe sfilare facilmente. Cercate invece di inserirli sempre in diagonale rispetto all'angolo di giuntura. Questo contribuirà a rendere l'unione sicuramente molto più stabile. Se utilizziamo degli stuzzicadenti, potrebbe esserci l'inconveniente di non riuscire più ad estrarli una volta che la colla ha patto presa. Questo perché, essendo di legno, potrebbero incollarsi insieme alla giuntura. In questo caso, una volta che la colla ha patto presa, dobbiamo rifilarli con un tronchesino e cercare di nascondere poi il buco che rimane con dello stucco. Questo svantaggio però porta con sé anche dei vantaggi, perché il pezzettino di stuzzicadenti che rimane all'interno della giuntura agirà come una vite, rendendo la giuntura sicuramente molto più solida. Quello che vi voglio mostrare ora è un sistema che permette di ottenere un incollaggio più rapido senza usare né spigli né stuzzicadenti. Insieme alla colla vinilica possiamo utilizzare anche qualche goccia di colla cianoacrilica, il classico Super Ata. Stendiamo prima la colla vinilica sui due pezzi che dobbiamo unire. E poi andiamo ad aggiungere qualche goccia di Super Ata. Andiamo poi ad unire i due pezzi tenendoli in posa con le mani per qualche secondo. In questo modo riusciamo ad ottenere un incollaggio molto rapido, potendo fare a meno di spigli e stuzzicadenti. L'importante però è che non utilizziate mai la colla cianoacrilica direttamente sul polistirene, perché lo brucierebbe e basta senza incollare nulla, mentre utilizzandola insieme alla vinilica permette di ottenere un incollaggio molto rapido. Bene, il video si conclude qui, spero di essere riuscito a descrivere in maniera chiara quelle che sono un po' le caratteristiche principali e i metodi di lavorazione del polistirene. Se avete delle domande più specifiche potete sempre scriverle qui sotto nei commenti, io nei limiti delle mie possibilità cercherò di rispondere un po' a tutti. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao!